L'Avrov al Congresso Costitutivo del Movimento Internazionale Russofili. Innanzitutto, permettetemi di leggervi il saluto del Presidente Vladimir Putin. Cari amici, permettetemi di salutare i partecipanti al primo congresso del Movimento Internazionale dei Russofili. Alla base del vostro movimento appena costituito, ci sono le antiche tradizioni di amicizia e di reciproco rispetto, che legano i russi agli altri popoli. Tali lodevoli tradizioni si sono conservate persino nei momenti più cruciali della storia, e sono vive tuttora, nonostante che in molti Stati venga sviluppata con perseveranza l'isteria antirussa, vengano oppressi i nostri connazionali e quanti solidarizzino con essi. Vengano introdotti divieti e limitazioni persino all'arte appartenente al patrimonio mondiale, frutto dei maggiori classici russi. Ciò che unisce i partecipanti del congresso è l'amore sincero per la Russia, la sua storia e la sua cultura, l'interesse a tutto quel che è legato al nostro Paese. Apprezziamo molto la vostra incrollabile determinazione a contrapporsi alla campagna russofobica, l'aspirazione a sviluppare il dialogo e la cooperazione umanitaria reciprocamente conveniente. Non c'è dubbio alcuno che il vostro forum si svolgerà in chiave costruttiva e creativa, e darà avvio a progetti ed iniziative congiunte promettenti, tese a rafforzare l'amicizia, la fiducia e la reciproca comprensione. Vorrei ringraziare di cuore gli organizzatori per il lavoro svolto ed augurare successi ai suoi partecipanti. Vorrei rivolgere particolare attenzione a quel passaggio del saluto del Presidente, in cui dice che indubbiamente questo nuovo movimento internazionale, quello dei russofili, lavorerà in chiave costruttiva ed avvierà una cooperazione congiunta promettente per rafforzare l'amicizia, la fiducia e la reciproca comprensione. È in questo il senso della nostra civiltà. Non siamo mai, mai, amici con qualcuno contro qualcun altro. Guardate ora al periodo contemporaneo di cruenta guerra ibride. Noi non costringiamo nessuno ad assumere una posizione piuttosto che un'altra. I paesi del sud globale, la maggioranza mondiale, sono in grado di trarre da soli le loro deduzioni. Siamo tutti adulti. Vediamo di non rapportarci gli uni agli altri dall'alto in basso, come fanno invece i nostri colleghi occidentali, esigendo pubblicamente da chiunque, senza distinzione, compresi i paesi che rappresentano grandi civiltà antichissime, che eseguano i loro ordini. Ecco dov'è la differenza tra ciò in cui sta degenerando la civiltà occidentale, posseduta dalla propria magnificenza ed esclusività, e che davvero ora sta combattendo non per la vita ma per la morte, per preservare o trattenere a tutti i costi il proprio predominio sfuggente sull'arena mondiale. Questa passione e brama di egemonia ha attraversato tutta la storia dell'Occidente per lunghi secoli. Ma bisognerà farlo. Perché la storia oggettiva riflette la posizione della stragrande maggioranza della popolazione della Terra al di fuori del miliardo d'oro, ma persino al suo interno, come possiamo constatare nell'ambito dell'evento odierno. C'è tanta gente che si rende conto perfettamente della perniciosità del percorso a cui tentano di spingere l'umanità coloro che oggi dirigono il mondo occidentale, che lo hanno costruito sotto la propria direzione. Sappiamo tutti, poiché viene annunciato pubblicamente, che gli Stati Uniti, o meglio, gli anglosassoni, cominciamo a chiamare le cose col loro nome, hanno preso le redini nelle proprie mani e dicono senza alcuna remora l'Europa deve scordarsi di una sua autonomia strategica, dovrete fare quel che noi abbiamo stabilito. Indubbiamente in questa situazione una gran quantità di europei, quelli che sono stati educati con le tradizioni dei classici del nostro enorme continente comune, non vuole rinunciare alle conquiste della nostra cultura e storia congiunte, alla lotta per quei diritti che davvero sono necessari alla gente che popola il nostro pianeta, compreso il già citato nostro enorme continente euroasiatico comune. Certo, ovunque viviate, ovunque lavoriate, in Europa, in Africa, in Asia, in America Latina, tutti voi, tutti noi, siamo uniti dal senso di simpatia per questa nostra storia congiunta, per le nostre tradizioni russe, che si incarnano nella cultura, nella lingua di Pushkin, Tolstoi, Akhmatova, Chekhov. Il fatto che siate venuti a Mosca, in un periodo così teso, merita indubbiamente il rispetto più profondo. Oggi è davvero un atto di coraggio. È proprio così che simili eventi interpretano i leader del mondo occidentale, come una sfida all'egemonia e non solo all'ordine mondiale, che loro cercano di rendere nuovamente unilaterale, ma a quei valori che sempre loro cercano di inculcare con violenza e rozzezza nella vita quotidiana dei loro paesi e delle loro società, addirittura opponendo un rifiuto al diritto delle famiglie, in determinate situazioni, di educare i propri figli. E voi lo sapete benissimo. Ovviamente, la guerra ibrida, ha per obiettivo, ed anche di questo si parla apertamente, di demonizzare il nostro paese al cospetto della comunità mondiale, accusarla di ogni peccato mortale, che sia la fame provocata dalle azioni egoistiche neocoloniali dell'Occidente all'inizio della pandemia, di incetta ad ogni genere alimentare disponibile sul mercato, che ha portato alla seria carestia in tutta una serie di paesi più poveri, e di questo, tanto per cambiare, viene accusata anche stavolta la Federazione Russa, sia quel che accade sul mercato energetico, dove la Russia viene accusata di quei guai di cui patisce innanzitutto la comunità europea, con un incremento più che triplicato dei prezzi dell'energia elettrica e del gas. Siamo accusati direttamente, ed Ursula von der Leyen, in visita recentemente a Washington, ha detto apertamente, con gran sincerità, al Presidente Biden, grazie per averci liberati dalla dipendenza delle risorse energetiche russe. Tuttavia, come ho già detto, tale ringraziamento va analizzato alla luce dell'aumento delle spese per il fabbisogno energetico di oltre tre volte. Come avete sentito, Berrol, capo dell'Agenzia Energetica Internazionale, ha affermato che l'energia costerà cara a lungo, e questo inciderà notevolmente sulla concorrenzialità dell'Unione Europea e dell'Europa come tale. Non lo sto dicendo per gioire delle disgrazie altrui, ma affinché ci rendiamo conto che i valori predicati per lunghi anni da Nikolai Malinov, sostenuti per tanto tempo dai nostri filosofi e attivisti come Konstantin Malofev, Alexander Dugin e tantissimi altri, non voglio qui offendere nessuno, consistono nel fatto che non incitiamo nessuno alla guerra santa contro l'Occidente, contro i crociati, contro chi che sia. Ci stanno imponendo questa guerra perché proprio gli eredi dei crociati e degli altri conquistatori hanno stabilito che la Russia sia un ostacolo sulla via del loro predominio nel mondo. E non è affatto così. Noi non cerchiamo di frenare qualcuno nel cercare di realizzare i propri legittimi interessi. Quando però affermano di dover sottomettere il mondo intero, diciamo, l'Asia, che è proprio quel territorio in cui l'alleanza del Nord Atlantico vorrebbe comandare su tutto e su tutti, beh, penso che il senso di giustizia tipico per il popolo russo come per la stragrande maggioranza delle civiltà mondiali debba esprimere la propria opinione in merito. Come parte di questa manifestazione di senso della giustizia io vedo appunto l'iniziativa di Nikolai Malinov e di tutti i suoi amici, di tutti coloro che oggi si sono radunati qui per sostenere questa impresa. Non voglio soffermarmi dettagliatamente sugli esempi della russofobia letteralmente cavernicola che penetra esponenzialmente nella vita quotidiana occidentale, negli Stati Uniti, nei paesi della Nato e dell'Unione Europea, in Australia, in Nuova Zelanda. Il mondo anglosassone, con la sua creazione di blocchi strutturali tipo AUKUS, con la promozione delle infrastrutture militari Nato in Asia, compie un passo molto grave, teso ad uno scontro per lunghi anni. Non riesco ad immaginare come le grandi civiltà asiatiche possano accettare supine come con immenso rammarico ha fatto l'Unione Europea ed eseguire i propositi di Washington e degli altri nostri colleghi anglosassoni. Voglio attrarre ancora una volta l'attenzione sulla differenza fondante tra il nostro movimento e quei vessilli sotto cui l'Occidente raduna gli altri paesi, esigendo da loro, in qualsiasi continente, di eseguire quel che gli viene ordinato relativamente alle sanzioni contro la Russia, addirittura ai rapporti con la Federazione Russa. Ho già detto che è un gesto di coraggio il solo firmare e sostenere il manifesto, l'appello letto da Nikolai Malinov, venire qui ed affermare che vogliamo semplicemente realizzare gli obiettivi menzionati in tale manifesto. Questi obiettivi, e con questo concludo, consistono nel promuovere la cooperazione, l'interazione e l'amicizia. E' questo che da sempre ha contraddistinto sia la nostra civiltà, sia quelle cinese, indiana, araba. E' sempre stato alla base dei movimenti sociali in America Latina, nel continente africano. Siamo tutti interessati ad essere amici, o anche solo promuovere il buon vicinato e realizzare progetti congiunti per reciproco interesse. La posizione per cui, solo perché ami la Russia, o persino solo perché parli in russo, come oggi qui è già stato ricordato, in luogo pubblico, devi essere sottoposto ad ostracismo, non fa parte dei nostri valori e dei nostri metodi. Sono sicuro che domani o dopodomani leggeremo o sentiremo giudizi su questo evento, su questo congresso, analogamente agli accadimenti in Moldavia e in Georgia. E ci diranno ancora che si tratta degli ennesimi intrighi di Mosca, il cui obiettivo è quello di attrarre la gente dalla propria parte con promesse da marinaio e corruzione. Non solo lo escludo, ma sono certo che una simile campagna contro il nostro movimento verrà dispiegata. Tanto più è importante restare onesti, fedeli, se volete, alle migliori tradizioni dell'internazionalismo, all'amicizia tra i popoli. Tutto questo oggi non sono parole vacque. E per certo non erano vacque nemmeno quando a promulgarle era l'Unione Sovietica, ma oggi si fa attuale come non mai questo rapportarsi umano alla gente su tutto il pianeta, contrapporsi a questo diktat in tutte le sue sfaccettature. Non vediamo più semplicemente un neonazismo, ma un nazismo esplicito che penetra in sempre più paesi europei. Vediamo come sotto i nostri occhi viene distrutta la storia, i monumenti sacri che per inciso rendono omaggio non solo ai combattenti dei popoli sovietici, ma anche a quegli alleati che combatterono con noi in quella grande guerra, ai francesi, ai cechi, agli slovacchi e a tanti altri popoli. Ecco perché sono davvero felice che questo movimento sia nato. Avete uno splendido emblema che sta a significare che lavoreremo assieme per creare e sviluppare le alte tecnologie, senza per questo dimenticare la bellezza, la cultura e soprattutto ed ovviamente la pace. Questo lo ricorderemo sempre. Ancora una volta buona fortuna. grazie. Grazie a tutti. Grazie.